Alimentazione e territorio un legame da riscoprire è il ciclo di incontri e dibattiti su questo tema all'interno del progetto realizzato dall'Associazione Le Vie dello Zafferano della Presidente Sonia Fiucci sposato dal Comune dell'Aquila, dalla Regione Abruzzo con il progetto Abruzzo Regione del Benessere dall'Arta e dall'Accademia Medica. Gli incontri ci saranno il 21 e 29 dicembre e 1 a gennaio un progetto che mira valorizzare prodotti tipici come zafferano, olio, grano, tartufo, legumi e formaggi nell'ambito di una corretta alimentazione. Il Comune ha fortemente evoluto la presenza di questi prodotti anche all'interno del mercatino di Natale in Piazza Duomo per dargli una specifica connotazione. Questa è un'iniziativa che a me è piaciuta da subito inserire e pensarla all'interno del mercatino di Natale perché è chiaro che il mercatino è un mercatino chiaramente generalista nel senso che si può trovare ovunque più grande, più piccolo chiaramente per quest'anno siamo alla nostra prima edizione però inserire invece all'interno di questo mercatino un mercato che possa valorizzare il prodotto tipico con non solo il prodotto tipico fine a se stesso ma come strumento di benessere mi è sembrato una cosa troppo importante da poter sfuggire. Al termine di ogni incontro ci saranno degli show cooking dello chef stellato William Zonfa che presenterà dei piatti e fornirà preziosi consigli culinari. L'Art Abruzzo è soggetto attuatore del progetto multidisciplinare Abruzzo Regione del Benessere e questo apre la stagione della tutela dell'ambiente avviando una campagna di riflessione culturale con il territorio. L'assessorato regionale all'agricoltura partecipa con orgoglio all'iniziativa nell'ambito del suo progetto Abruzzo Regione del Benessere perché sostiene i lavoratori della terra e del mare, gli allevatori e gli elaboratori di materie prime con lo scopo di restituire ai cittadini un ambiente salubre, tecnologicamente avanzato e protetto. Un nuovo modo di intendere tutela ambientale che non è soltanto il controllo analitico dei fattori di inquinamento ma questa volta vi è una diversificazione dei campi attraverso il Vice Presidente della Regione Emanuele Imprudente e altri partner istituzionali abbiamo pensato che il benessere possa passare anche attraverso la qualità dei nostri prodotti, dei prodotti dell'Aquilano i prodotti cosiddetti a chilometro zero e la loro salubrità rispetto alla vita. Siamo appunto a una svolta fondamentale far capire l'importanza del territorio sia come stile di vita sia anche come correzione degli errori alimentari e dei regimi alimentari scorretti alla base di quelle che sono le patologie, le cosiddette malattie del benessere. Io personalmente credo molto in un mantra e che cioè i riappropriarsi di regimi alimentari corretti coincidono con la riappropriazione da parte di ognuno del legame con il proprio territorio.